ariete il sole fa l'ingresso nel segno e sottolinea un periodo ricco di energie positive di buone intuizioni e movimento in ambito economico lavorativo l'amore riserva incontri speciali ed armonia toro la luna di passaggio esalta la parte emotiva e vi concede una giornata di benessere e buon umore da dedicare a chi amate a rinvigorire le vostre azioni e decisioni in modo incisivo e duraturo gemelli il periodo si rivela produttivo per quanto riguarda accordi e incontri sia di lavoro che personali avvertite un senso di rinnovamento che vi accompagna a riscoprire anche le questioni sentimentali cancro dovete mettere in conto una fase un po faticosa che vi pone di fronte a qualche svolta a cambiamenti che si produrranno in tempi lunghi ma che iniziano adesso a far sentire il loro peso giove però regala fortuna leone momento effervescente e movimentato siete a vostro agio nelle occasioni conviviali e potrebbero accendersi scintille amorose in ogni caso siete forti e consapevoli caricati da nuove energie vergine probabilmente vi viene richiesto qualche sforzo per riuscire a completare un progetto o a concretizzarne di nuovi ma non siete carenti di determinazione e arriverete ai vostri obiettivi usando la tenacia bilancia il cielo astrale attualmente presenta parecchie dissonanze e consiglia di muovervi con prudenza siete sollecitati e insoddisfatti forse preda di stanchezza e un po demotivati giudicate sempre con equilibrio scorpione la luna opposta oggi disturba le vostre sensazioni e vi orienta al nervosismo in un periodo che vi vede già predisposti alla rigidità positiva per fermezza di propositi ma pesante per un certo senso di oppressione sagittario un assetto astrale favorevole vi inclina a guardare con occhio ludico la vita avete voglia di cose piacevoli di qualcosa di bizzarro che vi stimoli non ultimo qualche avventura amorosa prudenza nelle finanze capricorno marte in transito nel vostro segno si accoda a saturno e crea qualche tensione repressa che può farvi scivolare in un periodo inquieto nel quale soffocate energie e opinioni l'amore è un po lontano acquario non siete nella migliore forma emotiva oggi causa la luna disarmonica le impressioni meno positive vengono amplificate ma dovete considerare tutte le opportunità e soddisfazioni che state ricevendo pesci la vostra attenzione è rivolta a questioni di ordine pratico per una volta preferite i vostri schemi abituali e non amate rischiare le energie sono contenute e canalizzate verso un obiettivo conflitti tra gli amici buone stelle grazie